Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi video, che video vogliamo fare Nicola, dillo tu, fare una torta a papà allora abbiamo deciso di preparare una torta al cioccolato a papà Tony perché il tempo è grigio, fuori fa freddo non possiamo andare al parco, non possiamo andare un po' in giro perché piove tantissimo da Tiger perché Nicola esce pazza per Tiger, impazzisce per Tiger, vero Niki? sto bloccata ti sei bloccata? No, quando entro da Tiger mi blocco perché c'è tante sorprese ti piace tanto? A te ti piace Tiger? quanto ti piace a te? Dillo tanto tanto e cosa vuoi comprare da Tiger? le lol da Tiger, ma Tiger non ha le lol, vero amici? allora cosa abbiamo deciso di fare? Stavamo dicendo Nicola? la torta al cioccolato a papà allora faremo una torta al cioccolato super buona, morbidissima e giustissima anche Tiger giocherà vero sopra quando lo mettiamo in forno e teniamo un pochino caldo no, dobbiamo aspettare che si raffredda, vero? eh, sì allora chi la preparerà questa torta? io! ok, perché io ho deciso di non fare nulla, faranno tutto loro, vero bimbe? sì, sì, allora ragazzi siete pronti? sì! andiamo a provare la torta! mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale! e se non mi piace andate, mettete tanti pollicini e cliccate sulla capparella! andiamo! andiamo! cosa stai facendo? stiamo mettendo a posto mettete a posto immediatamente, immediatamente le carte delle LOL che sono uscite da Super Pasqualona nel frattempo mamma è impazzita e va a preparare gli ingredienti, eh ci vediamo tra pochissimo eccoci qui con tutti i nostri ingredienti pronti zucchero, cacao, latte tè, olio, uova e farina e sbustina di liquido, ovviamente allora iniziamo con i prodotti liquidi quindi per i liquidi cosa si intende? cosa dobbiamo mettere? uova iniziamo con le uova aspetta! ecco, ricordo, super concentrata! bravissima Nicole! noemi ti do una mano? ok, secondo uovo messo da mamma perché altrimenti una beba faceva un guaio infinita! e non importa, dai amore mescola ti ho mescolato? bene, ora noemi, metti l'olio poi dopo giù nell'info box ti metto tutti gli ingredienti perfetti bravissima noemi! mescola, mescola, amici! allora Nicole, metti il lattuccio sei pronta? eccolo qui piano, piano, delicatamente ora noemi delicatamente aggiunge lo zucchero ora la mamma forse è meglio metterà la farina uoio allora, per fare questa ricetta non c'è bisogno del fogliatore quindi è proprio semplicissimo vero Niki? dillo ai bimbi ai ragazzi dillo a tutti che com'è fare questa torta? ragazzi è facilissimo fare questa torta devo girare devo mettere gli ingredienti e poi? è facile noemi? si guardate vabbè diciamo che possono farla tutti vero Niki? si ah, mica sono tu tutti i bimbi tutti gli adulti guarda se la farina è sparita la farina è sparita? però ci sono un po' di grumi gira, gira, gira ora mettiamo la parte più buona che piace a Niki cacao vai, vieni piano, piano qua mamma mamma mia vai super casinara allora ragazzi questa è la consistenza questo è il risultato finale abbiamo aggiunto anche il liquido abbiamo mescolato ora lo mettiamo nella teglia e la inforniamo a 180 gradi per 30 minuti ecco la torta super cioccolatosa sfornata ora tagliamo una fettina perché Niki non vede l'ora di assaggiarla e papà Tony la troverà già un po' mangiucchiata non importa com'è amore? bellissimo mastica, mastica, mastica allora la consigli? sì la devono fare? sì assolutamente? sì sarà felice il tuo papà? sì allora dici un po' com'è? fatela anche a voi a casa è buonissimo questo te ve lo giuro allora ragazzi eccoci qui papino è arrivato ovviamente in cucina dobbiamo dargli la torta noi siamo momentaneamente nella cameretta delle bimbe Noemi è qui con il piggio e Mino perché si è fatta una certa ora ovviamente andiamo a portare la torta a papà cosa dici? gli piacerà? sì sì Niki andiamo? andiamo a vedere la sua reazione andiamo andiamo allora vieni in cucina con noi che le tue bimbe ti hanno fatto una mega sorpresa veramente? andiamo ma certo vabbè andiamo scusate il casino ma abbiamo appena finito di cenare allora papà tu ovviamente ti devi sedere vero Niki? sì sei pronto? sì apri gli occhi ma qua manca un pezzo sì come mai manca un pezzo? grazie amore qualcuno ha già assaggiato? io assaggio papà sì c'è anche un dolce davvero apposta per te com'è? buonissima eccole qua le golosone che ovviamente devono assaggiare anche la loro torta papà ci meritiamo un balletto per questo dolce fantastico? cosa è caduto? via state pronte? via balletto balletto di coppia Noemi unisciti al balletto vai ok ragazzi noi chiediamo qui questo video e come sempre vi invitiamo ad iscrivervi al canale Niki e il mio amico channel mettete i pollicini in su e cliccate sulla campanella e noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao